Credete nelle profezie divine? Credete che il futuro possa essere rivelato attraverso visioni mistiche? Prima però, ti chiediamo solo una gentilezza, iscriviti e metti mi piace al video per aiutarci a divulgare i nostri messaggi di fede. Nella tranquilla cittadina di Meggiugorie, situata nella regione montuosa della Bosnia e Derzegovina, si è sviluppata una storia straordinaria che ha catturato l'attenzione di credenti e curiosi di tutto il mondo. Al centro di questa narrazione si trova Vicka Ivankovic-Mijatovic, una figura di grande importanza nel contesto delle apparizioni mariane avvenute in questo luogo. In questo articolo esploreremo le rivelazioni di Vicka, sostenendo che la Madonna le ha mostrato il futuro della Terra. Per comprendere appieno il significato delle parole di Vicka, dobbiamo prima immergerci nel contesto storico di Meggiugorie. Questa piccola cittadina è diventata celebre per le apparizioni della Madonna risalenti al 1981, quando un gruppo di sei giovani veggenti, tra cui Vicka, ha sostenuto di avere avuto incontri regolari con la Madonna stessa. Questi incontri sono iniziati il 24 giugno 1981 e, secondo i veggenti, sono continuati fino ad oggi. Vicka Ivankovic-Mijatovic è uno dei sei veggenti di Meggiugorie ed è uno dei più noti e rispettati tra di loro. Nata il 3 settembre 1964, Vicka era solo una giovane ragazza quando le apparizioni hanno avuto inizio. La sua sincerità, la sua fede incrollabile e la sua dedizione alla preghiera hanno fatto di lei una figura centrale nel fenomeno delle apparizioni mariane. Il titolo dell'articolo, Vicka di Meggiugorie rivela, la Madonna mi ha mostrato il futuro della Terra, lascia intendere che Vicka abbia fatto una profezia eccezionale riguardante il destino del nostro pianeta. Nei prossimi paragrafi, esploreremo il contenuto di questa profezia, le circostanze in cui è stata resa nota e l'impatto che ha avuto sulla comunità religiosa e oltre. È una storia di fede, speranza e aspettative che coinvolge non solo i credenti ma anche coloro che sono curiosi di scoprire cosa potrebbe riservare il futuro, secondo le parole di Vicka e la visione che afferma di aver ricevuto dalla Madonna. Il piccolo villaggio di Meggiugorie, incastonato tra le maestose colline bosniache, è diventato famoso per il suo ruolo nei fenomeni delle apparizioni mariane. Questa pittoresca località ha visto la sua tranquillità sconvolta il 24 giugno 1981, quando un gruppo di sei giovani locali affermò di aver avuto un incontro con la Madonna. Questi incontri misteriosi si verificarono presso un luogo noto come Podbrdo, una collina nei pressi del villaggio, e si svolsero regolarmente nei giorni e nei mesi successivi. Meggiugorie divenne così un luogo di pellegrinaggio per milioni di credenti cattolici in tutto il mondo. La Madonna, secondo i veggenti, trasmetteva loro messaggi di pace, fede e amore. Queste apparizioni mariane non sono state senza controversie, con alcuni scettici che hanno sollevato dubbi sulla veridicità delle testimonianze dei veggenti. Tuttavia, l'importanza storica e spirituale di Meggiugorie per la comunità cattolica è innegabile. Vicka Ivankovic-Mijatovic, nata il 3 settembre 1964, è uno dei sei veggenti originali di Meggiugorie ed è emersa come una figura di grande risonanza. Vicka è cresciuta in una famiglia profondamente religiosa ed è stata una delle prime a dichiarare di aver visto la Madonna durante le apparizioni del 1981. La sua esperienza è iniziata all'età di 16 anni, quando ha testimoniato di aver avuto una visione della Vergine Maria. Questa esperienza ha cambiato radicalmente la sua vita e le ha conferito un ruolo di notorietà all'interno del movimento delle apparizioni di Meggiugorie. Vicka è conosciuta per la sua fede incommensurabile, la sua capacità di comunicare con chiarezza i messaggi che afferma di ricevere dalla Madonna e la sua dedizione costante alla preghiera. Ha trascorso gran parte della sua vita a condividere la sua testimonianza e la sua visione spirituale con i pellegrini che arrivano a Meggiugorie in cerca di conforto, speranza e una connessione più profonda con la spiritualità. La sua credibilità tra i credenti è stata sottolineata dalla sua capacità di rivelare eventi futuri che, afferma, le sono stati mostrati dalla Madonna stessa, un aspetto che esploreremo dettagliatamente nel prossimo paragrafo. Uno degli aspetti più straordinari della storia di Vicka di Meggiugorie è la sua affermazione di aver ricevuto visioni profetiche dalla Madonna, visioni che avrebbero rivelato il futuro della Terra. Queste profezie, secondo Vicka, contengono dettagli sorprendenti sugli eventi che dovranno verificarsi nel mondo nei prossimi anni. Tra i dettagli chiave delle sue profezie ci sarebbero previsioni su eventi mondiali, cambiamenti climatici, sviluppi politici e sociali. Tali affermazioni hanno attirato l'attenzione di credenti e scettici, poche le parole di Vicka sembrano profonde e cariche di significato. Nel prossimo segmento di questo articolo, esploreremo più approfonditamente il contenuto di queste profezie e come sono state accolte dalla comunità religiosa e dalla società in generale. Le profezie di Vicka di Meggiugorie sono state considerate dagli affezionati come messaggi straordinariamente rivelatori e profondamente spirituali. Vicka afferma che queste visioni le sono state comunicate direttamente dalla Madonna durante i suoi incontri regolari con la Madre di Gesù. Queste profezie coprono un'ampia gamma di argomenti e sembrano fornire dettagli sorprendentemente accurati sul futuro della Terra. Una delle profezie più significative riguarda il futuro della fede e della spiritualità. Vicka ha affermato che la Madonna le ha rivelato che ci saranno momenti di grande tribolazione e crisi spirituale, ma che la fede trionferà alla fine. Ha incoraggiato i credenti a rimanere saldi nella loro fede, a pregare e ad essere testimoni della verità anche nei momenti più difficili. Le profezie di Vicka includono anche previsioni su eventi naturali, tra cui catastrofi, terremoti e cambiamenti climati. Vicka ha sostenuto che la Madonna le ha mostrato immagini di eventi futuri che mettono in evidenza la necessità di proteggere l'ambiente e di adottare uno stile di vita più sostenibile per evitare il peggio. Inoltre, Vicka afferma di aver visto cambiamenti politici e sociali significativi nel futuro, compresi momenti di conflitto e cambiamenti nel panorama mondiale. Ha descritto queste visioni come un avvertimento per l'umanità affinché si impegni nella pace, nella giustizia e nella solidarietà. La profezia di Vicka di Meggiugorje ha suscitato una serie di reazioni tra i credenti cattolici e i pellegrini che si recano a Meggiugorje in cerca di una connessione spirituale più profonda. Molti di loro hanno accolto le parole di Vicka con fede e speranza, vedendole come un incoraggiamento a vivere una vita più virtuosa e a prendersi cura del pianeta. Le profezie di Vicka hanno anche spinto alcuni credenti a intensificare le loro pratiche religiose e a cercare una maggiore spiritualità nella loro vita quotidiana. Le testimonianze di coloro che credono fermamente in queste visioni sono state ampie e toccanti, e spesso sono state condivise attraverso reti sociali e siti web dedicati a Meggiugorje. Tuttavia, è importante notare che non tutti i credenti hanno accettato queste profezie senza dubbi. Alcuni hanno sollevato interrogativi sulla validità delle visioni di Vicka e sulla loro interpretazione. Gli scettici sottolineano che le profezie potrebbero essere aperte a varie interpretazioni e che il futuro è in gran parte incerto e soggetto a molte variabili. Nel complesso, le profezie di Vicka di Meggiugorje hanno scatenato un dibattito vibrante tra i credenti e hanno ispirato riflessioni profonde sulla fede, la spiritualità e il destino della Terra. La loro influenza continua a essere oggetto di studio e discussione all'interno della comunità religiosa e oltre. Nonostante l'entusiasmo e la devozione di molti credenti, le profezie di Vicka di Meggiugorje non sono state prive di critiche e scetticismo. Coloro che mettono in discussione la validità di queste visioni sollevano diverse preoccupazioni e interrogativi. Innanzitutto, alcuni scettici ritengono che le profezie siano aperte a interpretazioni vaghe e ambigue, rendendo difficile stabilire se siano state effettivamente predette o meno. Sostengono che molte delle previsioni di Vicka potrebbero essere facilmente associate a eventi comuni o interpretate alla luce di ciò che è già accaduto. Altri critici sollevano dubbi sulla stessa autenticità delle apparizioni mariane di Meggiugorje, sostenendo che non ci sono prove concrete o scientificamente verificabili che confermino la loro validità. Questi scettici insistono sul fatto che le apparizioni potrebbero essere il prodotto della suggestione collettiva o di eventi psicologici e culturali. Allo stesso tempo, c'è anche una corrente di critici che accusa i veggenti, tra cui Vicka, di sfruttare le apparizioni mariane a fini finanziari o di notorietà personale. Affermano che le pellegrinazioni e il turismo religioso a Meggiugorje generano considerevoli entrate, e alcuni veggenti avrebbero potuto trarne beneficio economico. Le profezie religiose, in generale, sono sempre stato oggetto di grande interesse e dibattito all'interno delle comunità di credenti. Esse spesso rappresentano un tentativo di comprendere il piano divino e il futuro, offrendo un senso di speranza e orientamento in tempi di incertezza. Le profezie religiose hanno storicamente influenzato la fede e il comportamento delle persone, spingendole a cercare la redenzione, a compiere atti di benevolenza e a prepararsi per eventi futuri. In questo contesto, le profezie di Vicka di Meggiugorje non sono un caso isolato, ma si inseriscono in una tradizione millenaria di rivelazioni divine. Tuttavia, è importante sottolineare che le profezie religiose possono essere soggette a interpretazioni diverse e talvolta conflittuali. Ciò solleva domande sul loro ruolo nella vita dei credenti e sulla loro influenza sul comportamento umano. Mentre alcuni credono fermamente nelle profezie come guida spirituale, altri possono vederle con scetticismo o addirittura rifiutarle. In conclusione, le profezie di Vicka di Meggiugorje rappresentano un capitolo significativo nella storia delle apparizioni mariane e nella fede cattolica. Tuttavia, il loro impatto e la loro validità rimangono aperti a interpretazioni contrastanti, e la loro influenza sulla fede delle persone è un argomento che continua a essere oggetto di studio e discussione. Le profezie di Vicka di Meggiugorje sono un riflesso dell'importante ruolo che le visioni religiose e le apparizioni mariane hanno nella vita delle persone credenti. Queste profezie, sostenute dalla testimonianza di Vicka, hanno affascinato e ispirato milioni di individui in cerca di un senso più profondo di spiritualità e di una visione del futuro. Mentre alcuni credono fermamente nella validità delle profezie di Vicka, altri esercitano un sano scetticismo, riconoscendo che le visioni e le previsioni future possono essere interpretate in modi diversi. L'importanza delle profezie religiose non può essere sottovalutata. Queste visioni offrono una lente attraverso cui i credenti possono guardare il futuro e cercare di comprendere il piano divino. Tuttavia, è fondamentale ricordare che le profezie non sono leggi immutabili ma piuttosto indicazioni o avvertimenti che invitano le persone a una riflessione spirituale e a una vita guidata da valori morali. Grazie per averci seguito, alla prossima!